Ciao da Mirko Castogiovanni In questo video scoprirai perché il tuo network marketing o tu stesso non riesci ad avere risultati nel tuo business Sicuramente sarai una persona in gamma che ha dato il 100% Ha fatto tutto ciò che il tuo sponsor ti ha detto di fare Però non hai raggiunto i risultati che volevi ottenere O meglio al 100% non li hai ottenuti Ti voglio dire che la colpa non è tua Assolutamente perché sono sicuro che tu hai dato sempre il massimo Hai seguito la formazione che è la cosa più importante per raggiungere i tuoi sogni, i tuoi obiettivi tramite il tuo business Ti posso assicurare che la colpa non è tua Da che cosa è scaturito tutto ciò? Qual è il problema? Il problema è il cambiamento Ultimamente c'è stato un cambiamento nel network marketing Infatti entra in gioco l'internet marketing Infatti in questo video parleremo come è possibile applicare l'internet marketing al network marketing Mentre però vi starete chiedendo come mai alcune persone riescono comunque ad avere risultati senza usare l'internet marketing Perché comunque ci sono queste persone che riescono a fare il boom, il botto diciamo con i risultati Bene, è inutile nasconderci dietro un dito Sopra il network marketing bisogna investire Ok? Sì, in formazione, in prodotti In ciò che si viene a creare per sviluppare il proprio sistema, il proprio business Quindi se non hai comunque un'entrata extra o uno stipendio Tu non puoi portare avanti il tuo network Senza di esse non hai le spalle coperte E quindi non riesci ad andare oltre Mentre alcune persone che magari hanno uno stipendio O hanno un'entrata, quello che sia, dietro il sistema del network marketing Riescono a svilupparlo più facilmente Perché le persone guardano cosa tu hai Si attaccano molto facilmente a ciò che hai di materiale Magari hai il macchinone, magari hai la barca Quindi le persone guardano quando tu vai a presentare un'attività milionaria Che vita di stile fai? Se ancora non hai la posizione Quindi parlo dell'immagine positiva Dell'immagine che comunque economicamente stai bene Le persone non si buttano a fare business con te Quindi dovremmo fare un passo indietro Per le persone che non hanno tutto questo Che comunque iniziano da zero Dobbiamo trovare qualcosa di duplicabile Ecco che qua entra in gioco l'internet marketing Applicato al network marketing Questo perché? Perché grazie all'internet marketing Tu puoi sviluppare le prime tue rendite automatiche Da zero In modo semplice e veloce E in più, grazie ad esso e alle tecniche che puoi usare su internet Sfruttando youtube, google, facebook I motori di ricerca più forti in questo momento Puoi accelerare il tuo business In maniera veloce E con veloci risultati Quindi Adesso noi organizziamo in tutta Italia Eventi Se vuoi scoprire come è possibile Accelerare il tuo network Creare contatti automatici per il tuo business Vendite automatiche Persone già interessate al tuo business Senza usare i metodi tradizionali Che sarebbero lista nomi Parenti, amici, vicini di casa Che magari non gliene frega niente del tuo business Quindi L'approccio è più semplice Quando vai a trovare persone O meglio Ti cercano persone Che sono interessate a te E a quello che fai L'approccio è cambiato Io lo chiamo Il cambiamento L'evoluzione del network marketing Adesso Dicevo prima Stiamo organizzando eventi in tutta Italia Se vuoi scoprire anche tu Come sviluppare tutto questo In modo semplice e veloce Inserisci qua il tuo nome E la tua email Dove ti arriveranno video gratuiti E se vuoi partecipare Personalmente A un evento Organizzato da noi Del Team Revolution Contattami al più presto Che magari ce n'è uno Lì vicino da te Dai Ci sentiamo presto Spero che in questo video Ti sono stato utile E niente Ci vediamo presto ragazzi In bocca al lupo Ciao